Cuglisi, dunque, Casa Pound segue la linea di quello che è stato il suo candidato sindaco, Giovanni Ivan Benussi. Certo, la seguiamo a pieno, anche perché noi reputiamo che questo sistema elettorale e questa maniera di voto è una truffa. È semplicemente una truffa perché il ballottaggio non serve a nulla, le maggioranze sono già decise, il Consiglio Comunale è stato eletto con un proporzionale puro e il ballottaggio è una legge di elezione diretta del sindaco senza un premio di maggioranza, perciò si garantisce l'ingovernabilità o comunque il mercato delle vacche per poter gestire un'eventuale giunta. Subito, appena chiuso il voto, già si cominciava a vociferare di possibili brogli, poche ore dopo è venuta fuori la notizia di alcuni voti strani, così come ha riportato anche Maria Teresa Tomada nel corso della conferenza stampa, bisognava aspettarselo? Ma bisognava aspettarselo per vari motivi, è giusto quello che è stato detto, cioè che non si può votare e stranamente chiudere il seggio alle 21 e non alle 22 e poi pretendere che si venga fatto uno spoglio così difficile e impegnativo e subito senza la freschezza anche di chi fa lo spoglio. Primo, secondo luogo, mi è successo anche a me, non l'ho detto in conferenza stampa, però un professionista di Bolzani, di cui ovviamente non posso fare il nome, è andato a votare, quattro preferenze, voto ex presidente di seggio, dice non le ho ritrovate da nessuna parte. E' venuto a interessarsi in comune per cercare di capire, è stato sballottato da un ufficio all'altro senza avere una risposta chiara, ma il risultato rimane, lui non ha trovato i suoi quattro voti di preferenza e dice casualità, vabbè immagino, dice dei cognomi anche un po' particolari specialmente, perciò non è possibile sbagliarsi.